palazzo confezioni è alta cerimonia per uomo e donna abiti su misura da palazzo confezioni per la cerimonia e la sposa le idee che hai sempre sognato creazioni eleganti e raffinate linee ricercate e personali completate dagli accessori più preziosi ed esclusivi palazzo confezioni classe eleganza qualità fascino anche moda cerimonia per bambini palazzo confezioni unica sede a martina franca zona industriale via per mottola giovedì 28 aprile 2011 santa cutellina usante per la tarantina per antonomasia usante della tarantina e santa cutellina che poi non c'è nessuno avete mai sentito qualche lunga si chiama cutellina cutellina no impossibile ma manca di cognome pertanto mannaggia santa cutellina santa santa cutellina non c'è nessuno successante approssimato di dicembre dalla regia belle a cominciamo su bello di gianne 24 perché subito dopo non mi dici te niente mi stai spettando la pasta aperta la pasta è cimera ma non ne parliamo di questo magari in coda sul finale a cominciamo con certa bomba strada bomba che sto a noi in questo favoloso giovedì qui a io tv con mi piace tu ovvero il tg n24 a prima notte si parla delle sette indagate si le sette sono le indagate che stavano tutti in Danaudi in Danamacana quella macana che ha piccato in piena a qui da qualcuno o trentottene in oeste Lucio insomma ha responsabilità per le cagate sue dolore e c'è un concorso morale un omicidio colposo per questo regia da qua che hanno commesso insomma hanno stato l'incidente mortale si sono raddoppi pensate in dalle prime tre mesi a Taranto in dalle prime tre mesi da gennaio fino a marzo a Trettusa cinque incidenti mortali hanno successo eh mica sono pochi a qua mi fa attenzione si richiede forte forte le piste ciclabili a qua parecchi amici amici vanno su abicicletta Franco Saticitti che mi ha piccato un impiede o fa che ha morto o questo guagnone che ha morto su Ponte Cirevoli fa gridare all'allarme quindi piste ciclabili e mi raccomando vuoi che è aperto soprattutto le istituzioni mettete il controllo la data non è stata scappata per nessun motivo c'è io ma addirittura non solo qui che era sparato ma qui che facevamo in questa città qua ma pure le incidenti si stanno a mettere e che cosa le scippe le cose parliamo del bilancio il bilancio comunale 2011 che è stato approvato all'interno del tuo consiglio che hanno fatto ieri l'opposizione si è opposta chi è l'oppositore chi d'altra chi è la destra non ci vuole buone cose pare che sono ancora grani da risolvere qua insomma 22 voti si hanno approvato il bilancio e quindi subito dopo dice che è successo ma scelta hanno visto rarriamente se stanno sentendo proprio parecchi cristiani che se lo culavano parecchi dici può debito che teniamo tutti i sessi 45 milioni non c'è la vasta e intanto si è approvato la certezza l'Atena ha aggiunto quindi vediamo un po' a testa alta possiamo andare avanti e risolvere il problema di Taranto dopo tutti i sessi micidioli che appare onestamente da queste voci importanti autorevoli insomma che sarà solito ma chi vivrà vedrà Altamarea l'associazione ambientalista di Taranto dice che l'elva ancora questo certificato non ce l'ha avuto come si chiama dall'AIA non ce l'ha rilasciata l'AIA sui documenti importanti è un autorevole proprio organo di controllo l'AIA insomma un problema per la prevenzione in gente la vita di risolvere sì o no quindi se aspettiamo la grande dice Altamarea eh no ancora di più tutte le fatiature che stanno a dare in 200 siderogici è una cosa che è stata risolta questo problema qua parecchi parecchi incidenti succedono a parte il resto che è succedo oddio non c'è mai questo capito sull'elva e c'è mentira e l'Eni Gianni Morante io quando parlo di l'Eni penso sempre a Gianni Morante quando mi ricordo la prima puntata l'Eni ne ha fatta di strada quel cane a sei zampi è la morte però voglio dire aspetta che mi ricompongo ma a posto passiamo alla prossima notizia Alessio A TARDE è successo niente non è successo niente se non fosse perché hanno stato sequestrato 8500 convezioni tra pannolini e assorbenti ma c'è questa notizia qua l'assorbenti vabbè 8500 relloggi contraffati insomma tre denunciate per riciclaggio sono tra cui ho uno da Parisi sono insieme tra Tarantino a Parisi invece i gemellaggi che non è successo proprio niente dici che 4.000 sono i messaggi che si spartevano da Ivano con Sabrina i presunti così si dice colpevo insomma sono a vedere 4.000 parecchie non sembrava una semplice amicizia comunque non è successo proprio niente ancora un non voglio un dici che sono scappato a carcere per amore dici che l'hanno andata notata ma tutto sono morto non è successo niente e da oggi comincia un'altra rubrica la volete sentire? è stato facendo che qualche cosa è successo è stato facendo che è successo qualche cosa praticamente un comune ha detto guardate quando il quartiere arriva a tar 6 per ciascuno dei 6 quartieri ci sarà un barco comunale c'è bella cosa questa qua beh c'è qualcosa è successo è stato facendo che qualche cosa è successo pure all'oblo a gandoli all'oblo di gandoli un locale che si balla che si faccia quando il ziano mi ricordo se Giovanni non vedeva a me a cucirmi c'è ballata mi dice all'oblo all'oblo mi dice alla distocchetta è andato tutta questa cosa quando dice l'oblo c'è ballata questo è un locale che tanto tempo fa qualche mese fa è stato sequestrato perché anziché un tot di persone ne andravano appena appena 4-5-6 volte di più praticamente e quindi l'abbiamo chiuso tutto sommato in distocchetta si può andare all'oblo quindi sta facendo che qualche cosa è successo questa è una bella notizia veramente questa è bella si è fatta qua è arrivata una 9 passeggeri si chiama la Vista Mar madonna capare facendo un ristorante questa Vista Mar ha portato ha ormeggiato il porto percantile proprio alla calata 1 del porto percantile hanno sceso tutti conoscenze come fu è sceso insomma 20 passeggeri turisti francesi e 120 membri dell'equipaggio veramente noi avremmo beffredi che ruolo contrario però anche le tibuine 20 passeggeri e 120 diciamo membri dell'equipaggio quelli funzionari nel turbine l'idraulico che cammina a passare il forno dai non so presi da Salt Museo il Martà il Castello la città vecchia e beh le poste più importanti della città nostra un po' come dire vado a Roma a Roma a Roma teniamo il Colosseo teniamo a Fontana del Trevi teniamo tutta la città a Roma lo stesso museo città vecchia e Castello bene che è bello fondamentale ritornando e riallacciando la notizia di ieri è importante come fatto Gianni Fabrizio ha parlato così per favore facciamo diventare capitale dell'UNESCO veramente per un giorno facciamo diventare a Tarno e soprattutto l'isola di Acetabecchia in modo tale che risplendere il tuo cuore di tutti i turisti che c'è in Italia e avere la propria danù non abbiamo bisogno di un turismo l'acqua sempre detto un turismo è il contrario dell'inquinamento di tutte le cose che fanno le cose brutte che fanno venire le punticce le cristiane per le 18 cose volete sbagliare voi di chi ti dà dovete andare stasera al Nautilus dici che sei un mag un cambroso le cristiane si chiama Mago Mancini c'è l'allenatore che sta venendo al leader che è mostrato in Manchester City che sicuramente è andato nella Juve andrà nella Juve sì gli amici mi sono in diventini dici cadetevi le pancini fino a ora avete tagliato i movoli vabbè poi se volete sentire la musica bella italiana ebbè mettetevi in una macchina verso le 6 e mezza alle 7 a biglietto acquistato a certezza però andate a Bari e ci sono togliate per i tuzzelli e vedete Elisa in concerto che mi piace a me ma come è che questo qua canta sulle canzoni non so ma l'altro diceva bello proprio dall'epoca quando in chiama sulle tavole diceva e cantava la canzone di Sergene Trigg a mio zì con fucile le pinne le cannocchiale sulla spiaggia anzi allo Iacovone andremo a te fare e se qua la notizia sicura porta stufata qua che dice ad agosto è pronta la curva le tifosi le tifosi come costumano le tifosi mi dice costumano anche a Bisa di fare quella curva palostra e scuola vi dice c'è tifosi c'è tifosi c'è fisica c'è non fisica c'è praticamente abbiamo avuto la certezza che la curva ha aperto completamente ad agosto e l'intenzione praticamente lo Stato è quella di adeguarlo a tal punto da sostituire pure le gradune le gradune sono sostituite praticamente ci vuole una spesa appena appena 4-7 mila euro forse l'offerente che si offre il primo offerente che si offre ha in regalo diciamo tutta la storia del TGN che scherzo 400 mila euro ci vogliono e quindi se stai comune sono a vedere nella nuova società di Dardario a qua non sto capisco onestamente non sto capisco chiun'indi a qua avrebbe prima il 100% dell'azione ma adesso il 99% l'avvocato Grig ha preso quella e ha preso quest'altra ce la faremo? a macerazione o puramente diciamo come dice sempre un grande amico mio o puramente è tutta non lo so qualche cosa che non ci deve convincere per cortesia perché noi vogliamo sapere vogliamo essere informati dei fatti anche perché il TGN ci sta talmente a cuore che io solamente quando sento la voce a mente o state quando arriva o do cam che arriva o biglietti che bui non vedo non vedo il perché io dovrei crearmi certi problemi che non devono esistere e ne sono convinto questo ce lo dirà il proseguimento della prossima puntata questo motivo va qua ci colleghiamo e modini in diretta che me la ditta Regi con Cataldo deve l'aria il nostro inviato sportivo anche certe volte di cronica certe volte di costume rosa costume arcobaleno ma molte volte anche di sport e quindi Cataldo dici il Taranto che si dice si dice che praticamente io mi sto un po' attirando per questo fatto e ora ho detto ad un amico mio a Giovanni guardate 4-5 scannette perché questa curva deve diventare la curva di una volta quando è bella la curva nostra guardate che spettacolo di gente come incita ma immaginate tutto lo stadio tutte le due le curve piene tutti i due i settori delle curve delle gratinanti delle tribune tutte imperfette si vogliono 400 mila euro per cortesire mettetele a disposizione perché altrimenti non può esserlo più io i 4 scannette 5 massimo li ho messi a disposizione dico soltanto che il cognome è facilmente prestabile per qualsiasi tipo di balzellette che finisce con una rima particolare arrivederci ciao Franco il nostro c'è albano albano franghette cosa queste queste dice poi la famosa pastecce che aveva dichiarato che aveva una mamma stampata è arrivato il momento ma ne sto capendo che appuntamenti a domani alla stessa ora mi raccomando sempre sui tv UDGN 24 una meraviglia un appuntamento che uno non può perdersi vudici di piccè beh per favore può vudic ma sarà però dovresti già capire da qua è un problema ci sono me sentite ma vedi a sentire ma vedi a fare ma vedi a fare piccè ma vuole bene tutto quanto le notizie di UDGN andranno sempre da casa vostra appuntamento domani allora mi raccomando a chi fanno saluto particolare a tutta la regia tutta la guaglione non guagliente che ne vengono ne trovo in questo studio bello questi vari studi che abbiamo di UDV se facciamo stage cosa si stanno affacciando nel mondo UDV ho saputo anche a livello streaming e quindi sul web se come nemmo macella quando ne sono altrimenti amici tarantini da tutto la parte del mondo madonna quale siete belli e qui da facebook madonna non ci sto altrimenti anche tenendo un po' di tempo che ce ne va dall'amici mia da belle arrivate orci appuntamento domani ma 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 su just non una not guaja Poi lo che da Garo gravando la vita Alla